Lasciate ogni speranza voi chintrate. Alla vista di queste parole, scolpite sulla porta dell'inferno, Dante ha bisogno del sostegno di Virgilio per oltrepassare la soglia e subito si immerge nell'oscura atmosfera infernale dalla quale provengono grida spaventose. Siamo nell'oscura cavità dell'antinferno. Qui vengono puniti gli ignavi, relegati ai margini degli inferi. Radunati in schiere, rincorrono insulse bandiere. La loro pena è aggravata dal morso di insetti e da fastidiosi vermi. Incontriamo per la prima volta la legge del contrappasso. Coloro che in vita non seppero decidere, dopo la morte sono costretti a seguire una vana bandiera e la loro vita inutile alimenta ora inutili insetti. Virgilio invita Dante a non perdere tempo con questi pusillanimi. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Il disprezzo del poeta Perivili nasce dal suo appassionato impegno etico e politico che lo porta a inventare un'apposita area dell'oltretomba non prevista dalla tradizione. Persino la dannazione nell'inferno è più onorevole della sorte di queste anime, colpevoli di non aver assunto le proprie responsabilità, come Papa Celestino V che con la sua vile abdicazione spianò la strada al corrotto Bonifacio VIII.